buongiorno e benvenuti alla lezione di quest'oggi di calendario posturale oggi lavoreremo un po sulla respirazione concentrandoci su quelle che si chiamano apnea negative cioè apnea senza aria nei polmoni ci sdraiamo pancia all'insù ma nulla ci vieta comunque di lavorare a sedere o per terra o su di una sedia e incominciamo a respirare prendiamo aria la portiamo nell'addome e piano piano la buttiamo fuori sempre dal naso una volta essento di essere moderatamente senza aria nei polmoni inizio a contare dentro di me lo scorrere del tempo e conterò mille uno mille due mille tre metri mille davanti al numero ci aiuta a essere più veritieri diciamo così con il conteggio dei secondi quindi mille uno mille due mille tre mille quattro mille cinque eccetera eccetera fin quando inizio a sentire i primi sintomi della fame d'aria cioè inizio a sentire un po di disagio un po di pancia che si sostringe un po di gola che si sostringe a quel punto riprendo aria poi l'andrò a ributtare fuori e torno in apnea continuando di nuovo ripartendo col mio conteggio se però tra una apnea e l'altra ho bisogno di fare qualche respiro normale molto tranquillamente lo vado a fare quindi magari entro in apnea ne esco faccio uno due tre quattro cinque respiri quanti mi serve e poi quando sono pronto riprendo aria dal naso la porto nell'addome la ributto fuori dal naso senza aria nei polmoni torno a contare e cerco senza forzarmi di sfidarmi leggermente magari dico guarda sono riuscito a starci dieci secondi la volta precedente vediamo se ci riesco a stare dieci secondi anche questa volta o addirittura undici però sempre come in ogni nostra lezione ascoltando il proprio corpo quindi senza andare a forzarsi più di tanto quindi mi sfido leggermente ma una sfida che sia sempre alla mia portata ci straiamo pancia all'insù oppure si rimane a sedere e incominciamo con la nostra respirazione prendo aria dal naso la porto nell'addome piano piano la ributto fuori dal naso e lì rimango senza aria e inizio a contare dentro di me e vado avanti ognuno col suo tempo ognuno con le sue possibilità non è ovviamente una gara appena sento che magari la pancia un po si stringe la gola un po si stringe o comunque sento di aver bisogno respirare molto semplicemente riprendo aria porto nei polmoni la ributto fuori e torno in apnea oppure mi prendo qualche respiro tra un'apnea e l'altra aria porto nei polmoni aria porto nei polmoni Grazie a tutti. 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 Mi fate un ultimo bel respiro, rimanete con l'aria nei polmoni per 10 secondi e poi buttate fuori tutto. E di nuovo lentamente rotolando da una parte se ci siamo sdraiati, altrimenti semplicemente ci salutiamo e ci vediamo come sempre domani. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.